A Milano comanda l'Andrangheta, libro che ha avuto un grande successo, un'inchiesta di Davide Carlucci insieme al collega Giuseppe Caruso, un libro verità che attraverso anche atti giudiziari racconta una scomoda verità e cioè di come Milano, la capitale industriale del paese, sia poi in realtà per l'Andrangheta e per le organizzazioni mafiose una grande occasione di affari, addirittura una enorme lavatrice per ripulire il danaro sporco. È così? Sì, ma l'Andrangheta che ricordiamo l'organizzazione criminale ritenuta ormai più spregiudicata e più potente sullo scacchiere anche internazionale, questo lo dicono vari rapporti ormai di tutte le polizie, di tutti gli organi investigativi, a Milano cosa trova? Trova un crocevia unico intanto dal punto di vista sia dei traffici internazionali, cioè qui abbiamo criminalità di provenienze le più disparate, diciamo dalla Cina alle bande slave, agli albanesi, insomma è Sud America, c'è un po' gira un po' tutto qui. Poi siamo nel cuore dell'Europa e quindi traffici che arrivano dall'Olanda, dalla Germania, ecco. Oltre a questo poi c'è qui e soprattutto c'è la finanza, c'è il mondo della grande economia e c'è anche, dobbiamo dirlo, c'è anche la grande politica ormai, diciamo che la politica si decide a Milano ormai negli ultimi dieci anni, passa soprattutto di qui. Nel libro per esempio si parla anche di cifre, di numeri, tanto per avere un'idea della potenza dell'andrangheta, si parla di oltre 40 miliardi, se si parlasse di un'azienda dovremmo dire di fatturato, ecco. Non è esattamente così, almeno pagassero le tasse. Il 3% del PIL nazionale addirittura, quindi è una specie di grande holding, che ha anche un grande potere di conseguenza, enorme potere. Enorme. Enorme, però poi noi parliamo sempre di grandi imprese, economia, politica, eccetera, però poi non ci dimentichiamo che poi il grano arriva però dalla droga, ecco tutto questo diciamo... E anche in questo Milano è capitale. E anche in questo Milano è capitale, perché come stiamo vedendo, abbiamo visto anche nell'inchiesta che ha portato agli arresti alcuni funzionari per la vicenda dell'Hollywood, anche lì, insomma, la cocaina gira, e non solo nelle discoteche, bisogna anche dirlo, in maniera impressionante qui a Milano e quindi anche da questo punto di vista per loro è una mecca. Ecco, allora, lo hai nominato e allora ti faccio vedere proprio il servizio che riguarda l'operazione che ha interessato proprio la discoteca Hollywood e non soltanto. E poi facciamo una riflessione ulteriore. Vediamo il servizio. Per la prima volta le telecamere della polizia hanno documentato quello che già le showgirl Belen Rodriguez e Fernanda Alessa, finite nell'inchiesta di tre anni fa, avevano raccontato. Nei bagni dell'Hollywood e del The Club la cocaina scorreva a fiumi. Ed eccolo in queste immagini il viavai di consumatori, imprenditori e persone dello spettacolo ripresi mentre sniffano la polvere bianca. Non un semplice consumo, ma un vero e proprio sistema, dove la droga veniva servita ai tavoli dei privè insieme allo champagne, racconta la squadra mobile di Milano e per questo, per la prima volta, oltre ai sigili di sequestro ai locali dei VIP, sono scattate anche le manette ai proprietari per favoreggiamento al consumo. Ai domiciliari Davide Guglielmini, Alberto Baldacci e Andrea Gallesi. È una rarissima occasione in cui è stata documentata un'agevolazione all'accessione al consumo di sostanti e superfacenti all'interno di un locale pubblico e sia stata contestata e la contestazione poi ha comportato anche l'emissione della misura cotelare. Droga ma anche tangenti. L'inchiesta ha scoperchiato anche il sistema di corruzione e concussione che ha coinvolto diversi dipendenti pubblici di comune e regione agli arresti domiciliari anche un funzionario dell'ufficio De Magno del Comune, Aldo Centonsi e Rodolfo Citterio dell'ex commissione di vigilanza, mentre altri dieci funzionari hanno ricevuto un avviso di garanzia, l'accusa aver agevolato i gestori dietro compenso con permessi ad aprire o avvisi di controlli sulla sicurezza. Da questo servizio si capisce soprattutto il volume di affari che girava anche attorno al traffico di droga, poi si è parlato di esponenti VIP eccetera eccetera, cose che forse un po' deviano l'attenzione, però quello che è emerso dall'inchiesta e sta emergendo dall'inchiesta è anche come di certi ambienti, di certi locali VIP milanesi, l'Andrangheta e gli ambienti mafiosi facessero il loro quartier generale, insomma erano un po' di casa, arrivavano, ordinavano champagne, lasciavano pistole e questo fa capire come ormai della città, non dico che si siano impossessati ma quasi. Poi c'è l'altra questione, la connivenza con i funzionari comunali, con gli uffici pubblici, ecco perché l'Andrangheta ha fatto di Milano la sua capitale in Italia ormai lo abbiamo capito e la questione economica, ma è stato sufficiente ed è sufficiente il suo potere o è stata necessaria la corruzione perché questo avvenisse? Ma diciamoci la verità, se esiste già una realtà per cui se per avere il locale, l'autorizzazione devi avere l'amico giusto, devi avere l'appoggio, devi brigare da una parte, insomma c'è già questo termine, ed era nella norma, anche in una realtà come Milano che si pensava dovesse essere, certo è un mito sfatato da tempo però comunque c'era ancora una certa forma per cui si pensava che Milano fosse una città dove ci fosse un'etica diffusa e invece tutto questo nei fatti sembra non esserci, sembra esserci la logica, la stessa logica sostanzialmente di tutta l'Italia del favore, anche del commercio, del diritto, del commercio, dell'autorizzazione eccetera eccetera, in questa realtà loro si inseriscono perfettamente perché è il loro terreno preferito, questo abbiamo visto anche, mi viene da pensare a un'altra indagine nella quale c'è un, per esempio si parla delle infiltrazioni dell'Andrangheta nel sud milanese, Trezzano, l'area Parco Sud diciamo, è lì emerso da una parte uno scenario di contatti tra criminalità organizzata e imprenditoria, poi gli stessi imprenditori, questi di Iorio e Madaffari avevano rapporti con politici corrotti, allora e queste, diciamo il loro ruolo che era considerato quello di essere delle lobby, dei lobbisti diciamo dell'Andrangheta era quello sostanzialmente di proporre all'amministratore, diciamo da una parte all'amministratore gli proponi che cosa? Il tuo capitale di conoscenze, la tua capacità di far fare affari, fare affari per un politico significa scalare appunto il partito, scalare la politica, d'altra parte l'Andrangheta che bisogno ha, ha bisogno di infilarsi nell'economia e l'economia ha bisogno dell'appalto pubblico e tutto si tiene... Però fammi capire una cosa, quello che vorrei capire è questo e che tu forse per certi versi se non direttamente in modo indiretto nel libro fotografi molto bene, io vorrei capire se negli ultimi anni all'Andrangheta gli abbiamo semplicemente aperto le porte della città esteso forse anche un tappeto rosso oppure stiamo cercando di richiudergli la porta in faccia, perché tempo fa qui proprio seduto sulla sedia dove sei tu adesso, Gabriele Albertini ex sindaco di Milano disse in modo velato ma molto comprensibili che all'epoca della sua gestione fenomeni come Pennisi o cose di quel genere lì non ce n'erano, le cose sono peggiorate, gliel'abbiamo proprio spalancate le porte con tanto di tappeto rosso, stiamo cercando di richiuderglielo in faccia le porte all'Andrangheta. Ma probabilmente Milano ha già dimenticato abbastanza in fretta lo shock di Tangentopoli, cioè probabilmente Tangentopoli è stato un campanello di allarme, è stata una doccia fredda per questa città, insomma sì hanno cose che si sapevano, però comunque in qualche modo ha segnato uno spartiacque e subito dopo c'è stata una certa attenzione, si è stati molto più vigili, non ci si sbracava più come prima nella corruzione. Poi che è successo? Che invece dopo, insomma, intanto questa è una città che proprio diciamo dopo l'austerity seguita da Tangentopoli vuole riprendere a volare diciamo ad alta quota per quanto riguarda gli affari imprenditoriali. Non ci dimentichiamo che qua a Milano c'è un un assessore, ci sono una classe politica, una giunta che dice per esempio, che teorizza che Milano dovrebbe crescere addirittura di 700.500, poi le cifre variano di almeno mezzo milione di abitanti in più, il che significa costruire a go go per i prossimi anni, per costruire a go go significa dire spalancare le porte all'imprenditoria in una città che tra l'altro è anche abbastanza satura dal punto di vista diciamo del cemento. E questo significa, io questo non voglio dire che chi dice questo automaticamente apre. Però è quello il terreno su cui si radica. Però significa che tu vuoi diciamo a certo punto insomma aprire le porte ai grandi investimenti e alle grandi speculazioni. Ti faccio una domanda precisa, ritieni allo stato dei fatti sulla base della tua esperienza che il Comune di Milano e l'area Lombarda debba dotarsi di uno strumento apposito, si era parlato della commissione antimafia, di una commissione che vigilasse su questo, deve dotarsi di uno strumento apposito per vigilare sulle infiltrazioni mafiose? Ma io credo proprio di sì perché è chiaro che bisogna stare attenti, non bisogna fare né commissioni inutili né sovrapporsi ai magistrati perché poi i magistrati fanno le loro inchieste, i politici, quello che possono fare è iniziare a come dire quando hanno dei sentori, quando hanno iniziare diciamo a mettere il naso politicamente, ripeto, poi magari segnalare quando ci sono delle cose che magari possono avere anche degli sviluppi investigativi, immediatamente segnalarli alla polizia, alle forze dell'ordine, però ci sono anche dei problemi politici, cioè ci sono delle situazioni, quando io vedo che ci sono diversi rapporti diciamo di alcuni politici gli stessi con determinati e diciamo esponenti della criminalità organizzata e bisogna porsi il problema ma perché, che tipo, che cosa ci facevi tu e di questo bisogna parlarne politicamente. Staremo a vedere che cosa succederà, intanto io ringrazio Davide Carlucci, giornalista e scrittore della Repubblica per essere stato con noi e per averci parlato anche del suo libro, grazie anche a voi per averci seguito, l'appuntamento è per la prossima settimana, arrivederci. Grazie a tutti.